Bentornati all'Italia in vetrina, un viaggio enogastronomico, musical, artistico lungo la nostra penisola. Parleremo naturalmente di un'altra terra meravigliosa della nostra splendida Italia, la protagonista di oggi è la Campania, ma naturalmente parleremo di Festival di Sanremo perché sta per debuttare questa 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana qui da Sanremo, noi siamo nella splendida casa Sanremo e abbiamo tantissimi ospiti che ci racconteranno proprio le news, i gossip, tutto quello che accadrà questa sera e nei prossimi giorni al Festival della Musica Italiana. 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 Arrivederci alla prossima puntata di Italia in vetrina Grazie a tutti